Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, oggi ragazzi siamo qui tornati per fare un nuovo video di calciomercato. Esatto ragazzi, oggi vi volevo parlare in particolare della situazione che si sta creando in casa Roma, veramente una situazione che per la Roma, per i tifosi soprattutto romanisti, è molto dura. Perché si sta parlando da tanto di Naim Golan, si sta parlando di Emerson Palmieri, di Kevin Strootman, centrocampista appunto olandese che era poco fa fondamentale per la Roma, però ovviamente deve fare cassa e poi Strootman si è lamentato dell'atteggiamento sia dell'allenatore che dei compagni di squadra. Quindi adesso ragazzi addirittura Dzeko è pronto addirittura a lasciare la capitale. Allora ragazzi il sito che sto vedendo è forzaroma.info, si parla appunto di Dzeko Chelsea, si va avanti e Ziyec piace pure Bacuai, quindi piace sia Ziyec che Bacuai. Bacuai è un attaccante del Chelsea che non è che sta proprio entrando nei piani di Antonio Conte, però pian piano comunque Bacuai riesce poco poco a integrarsi nel gruppo. Comunque Monshi in conferenza stampa ha detto che la Roma non va a caccia di offerte in giro e soprattutto non vuole ridimensionare la cosa ma rinforzarla. Non stiamo dormendo, si va diretto a Termini tra Totti e il Bosniaco. Infatti ragazzi alla stazione Roma Termini ovviamente Totti ha detto quando è partito il treno per Milano perché ragazzi ieri c'è stata appunto la partita di Inter Roma. Io questo video lo sto registrando di domenica mattina quindi non vi posso dire come è andata a finire la partita tra Inter Roma. E quindi ragazzi alla fine è una cosa che Totti ha detto a Dzeko guarda questo treno andrà a Londra e Dzeko ha detto ancora no. E questo ancora comunque fa preoccupare molto i tifosi romanisti perché questo ancora veramente non è un no proprio definitivo ma non lo so. Vediamo se voglio andare. E quindi ragazzi ovviamente è una cosa che fa male sia per la Roma perché se veramente la Roma vende sia Dzeko che Nainggolan ovviamente non credo che venderà tutti e due perché se è così è veramente la Roma non riesce neanche a lottare per l'Europa League. Però se vende adesso è veramente incredibile almeno cerca di vendere Stottman ed Emerson Palmieri e là già va bene perché comunque la Roma ci sta che deve fare degli acquisti per vendere. Tutte le squadre funzionano così però a mio parere ragazzi non farlo a gennaio perché secondo me se vendi tra Dzeko e Nainggolan è una cosa veramente incredibile. Stai facendo pure la Champions League. Hai fatto una Champions League fantastica e tu vai a vendere Dzeko tra Dzeko e Nainggolan e comunque non va bene. Già va bene comunque tra Emerson Palmieri e Stottman però io aspetterei a giugno perché ragazzi secondo me a gennaio stai già al centro del campionato al centro della Champions ti ritrovi senza magari un attaccante perché non riesci a prenderlo ti trovi veramente male. Quindi veramente Monchi sta facendo un calcio mercato veramente un po' ridicolo secondo me a mio parere ragazzi perché non può essere una cosa così e soprattutto Pallotta deve dire qualcosa perché visto che è il presidente non capisco che sta a fare allora Pallotta dentro quello specifico a quella società che è appunto la Roma. Quindi ragazzi voglio sapere voi tifosi romanisti e altri tifosi cosa ne pensate qui sotto nei commenti se Dzeko deve andare via non lo so cosa può succedere io sapevo che Emerson Palmieri comunque doveva andare tra la Juventus o il Chelsea se sia Dzeko che Emerson Palmieri vanno al Chelsea è veramente un problema per la Roma. Voglio sapere voi ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti fatemi sapere con un bel like cosa ne pensate se volete iscrivetevi al canale se no se non volete lasciate un mi piace se no al contrario lasciate un dislike. Noi ci rivecchiamo al prossimo video grazie ragazzi al prossimo video di calcio mercato ciao